Nel buio della notte di venerdì 31 ottobre dalle 23 in poi Sexy Halloween Ci saranno streghette da tutto il mondo con dolcetti e scherzetti piccanti Se hai coraggio ti aspettiamo da solo o con i tuoi amici Venerdì 31 ottobre al carosello Sexy Disco di Casarecchio di Reno Bologna via Bazzanese 95 terzo località Ceretolo Info 051 570 500 una festa fantasma gorica